fungo 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 fungaia cinghiale fungaia cinghiale che parte da questo patatino che vedete qua andiamo a toglierlo guardate che bello ma il bello deve ancora venire perché cercando cercando vogliamo sento questa lisca qua niente cercando ne ho visti ancora di cui ne abbiamo uno qua guardate che bello ci sono due guardate poi sempre cercando qua vicino qui ne abbiamo due fratellini qua guardate uno e due guardate che belli uno e due sono quattro e poi il papà di tutti il papà di tutti è questo qua che fa cinque guardate e sono cinque andiamo a toglierlo guardate freschissimi non fanno una piega un odore impressionante e andiamo a metterli nella gerla perché oggi mi sa che la gerla finiva di stasera è bella che piena e ragazzi alla fine poi vi mostrerò il bottino perché sinceramente non me l'aspettavo grazie a tutti